Ciao, sono Mesa Iannuzzi, cittadino pendolare 5 stelle. Considerato che prendo il treno ogni giorno e che le problematiche relative al pendolarismo ormai le conosco abbastanza, ho deciso di preparare un'interrogazione al Ministro dei Sporti relativamente alle condizioni dei treni della tratta Napoli-Roma e anche relativamente a due incidenti che sono accaduti, uno a Latina Scala il 25 luglio e uno a Roma Termini il 3 agosto sempre di treni della stessa tratta che sono andati a fuoco mettendo anche in pericolo le vite dei passeggeri. E anche lo stato, le condizioni di manutenzione dei treni in questione sono al limite della decenza. In piena estate l'area condizionata o è spenta o non funziona, le porte sono spesso guaste e i treni sono sovraffollati. E a volte troviamo anche degli insetti, delle blatte che ci fanno compagnia. Quindi chiediamo al Ministro dei Trasporti che faccia luce sui fatti accaduti e che verifichi e controlli che Trenitalia garantisca un servizio di trasporti sicuro e dignitoso per i cittadini. Ciao a tutti, alla prossima e vi terrò aggiornati.